E' più facile selezionare un'agenzia che un buon inquilino. Quello che voglio dire è che il compito di ricercare un buon inquilino parte proprio dalla scelta dell'agenzia che se ne occuperà. Se l'agenzia non fornisce altro che il servizio di ricerca di un conduttore è limitata, cosa fa un'agenzia professionale che si occupa di affitto? 1. Imposta un progetto di affitto con il proprietario attraverso una consulenza fiscale, contrattuale e di valutazione dell'immobile per conoscere tutte le possibilità e le relative rendite nette producibili e osservazione dei margini di rischio riscontrabili. 2. Selezionare il potenziale inquilino con requisiti chiari e utili al fine del pagamento su misura rispetto all'immobile che si considera e alla situazione soggettiva di chi ne fa la richiesta con tanto di verifica delle condizioni finanziarie. Nonostante questo arriviamo al punto 3. Fornire una garanzia di pagamento che possa sostenere il proprietario nel caso futuro e incerto di mancato pagamento. Se sei un proprietario e non ricevi questa qualità valuta bene se affidarti a quell'agenzia. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti